Da pochi giorni il Consiglio regionale si racconta ai cittadini attraverso un filmato visibile sul monitor esposto nella vetrina dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Arsenale a Torino. Sette minuti di tratti di consiglio per far conoscere meglio, in modo semplice e immediato, le attività dell'Assemblea Legislativa piemontese, la sua struttura e gli organi e organismi istituzionali che la compongono.